Ooooooh! 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 Fratelli! Titani! Guardatevi nelle vostre squalli dei prigioni! Chi vi ha messo laggiù? Su! E ora che vi do la libertà! Qual è la prima cosa? Che farete voi? Ristruggelo! Esatto! Schiacciare Zeus! Congelarlo! Equipare Zeus! Spassarlo via! Eeeh! 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 Ragazzi? L'Olimpo sarebbe per di là! C'è un gelato! Un istante, occhietto vispo! Ho un lavoretto speciale per te, ottico amico mio! Eeeh! 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 Bombo! Presente, forza! Efesto è stato catturato, mio signore. Tutti sono stati catturati. Io sono stato catturato. Pianchi, pianchi, pianchi. Zeusino, sono tornato. Ade, tu hai organizzato questo? Avete indovinato. Te lo giuro, Ade. Quando sarò uscito da... Sono io che do ordini, ora sputafulmini. E credo che vi piacerà qui. Non metterti troppo comodo, Ade. Ercole! E con questo la partita si riapre! Sì, Ercole! Grazie, amico! Prendeteli! No, prendete lui! Nonne! Lui! Seguite il dito, lui! Quei idiota col cavallo! Grazie, figlio mio. Come cavalla! Le mie intenzioni erano serie! Ero davvero attratta da te! Adesso guarda il tuo vecchio all'opera! Ragazzi, alzate i deretani da titani e arrossate qualche olimpica giappa! Chi mi ha spento i capelli? «Zara vello!» «Zara vello!» Usi che la fa a la una, «Zara vello!» «Zara vello!» Grazie per la visione!